universale di ogni essere umano, vuol dire che la parola democrazia ma cosa vuol dire? Si vado a votare per non far succedere niente, non cambia assolutamente nulla, i processi continuano, sappiamo che nel processo privatistico non c'è solo una destra diciamo nelle sue tradizioni mercantilista, iperprimerista e tutte queste cose, no, è che questa cosa contamina anche parte del sedicente riformismo, mentre invece non c'è uno schieramento totalmente forte nel paese, che determina una reazione davvero marcata, perché voi siete scendi che volete privatizzare l'acqua, ma noi non ve lo lasceremo fare ma dovrete passare sui nostri catarmi per privatizzare l'acqua, no, diventa miliale, ma in fondo che cos'è è più efficiente, andate a vedere l'efficienza quando privatizzano l'acqua. Ho detto la salute? Beh, no ma certo, poi vieni duro, mi dici meglio di me, ma voglio dire, io voglio dire, tutto questo, appunto, ho detto, il corpo umano non vale, la stessa riforma sanitaria di Obama dimostra, non la voglio, perché non la voglio, non l'ha ancora fatta, non l'ha ancora fatta, puoi dire dopo, non funziona, ci costa troppo, no, prima dico no, 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 perché noi dobbiamo guadagnare, fantastiliardi sulla vostra pelle, sulla vostra malattia, quindi per favore non si fa una riforma sanitaria, cioè questa cosa andiamo un pochettino a monte per cercare di capire. Allora chi decide? Chi decide? I cittadini degli Stati Uniti d'America hanno eletto un nuovo Presidente, decide lui, no, ci sono delle logiche, si stanno preparando a fare una tale guerra che alla fine lo metteranno in discarco, già si dice, non ci sarà una riforma sanitaria, perché semplicemente questi non vogliono. Ora noi abbiamo un grande problema, un grande problema, prima di tutto una questione, noi sul piano nazionale facciamo poco, oramai, se non riusciamo ad avere le nostre dados, e questo lo dice il grande Sigurd Bauman, che è il più grande scienziato sociale dei nostri tempi, dice, se noi non cominciamo una battaglia per il pianeta sociale, non arriviamo da nessuna parte, perché mettiamo anche che in Italia noi riusciamo a creare un movimento politico e a cercare di fermare un agio, ma un solo Paese può essere messo in discarco da una serie di azioni, di disturbo, di boicottaggio, attraverso meccanismi economici, in mille modi potentati mondiali possono mettere in cinocchio un Paese. C'è un problema grosso, perché io mi domando, ma perché non c'è una ribellione di tutto un Paese? Perché non ci sono migliori di cittadini, lascia stare destra a sinistra, che scendono in piazza a dire, ma giù le mani dall'acqua è quella che dobbiamo bere al mio bambino, al mio nonno è quella che bevo io? Com'è possibile? Che cos'è? Perché sta succedendo questa cosa che le persone stanno arrivando a sopportare l'insopportabile e non si ribella? Che cosa c'è? Qual è il cortocircuito che impedisce un movimento veramente forte e autorevole che scoraggi questi meccanismi? C'è qualcosa che è capitato, sarei state le televisioni che ha rincogliato sia quello che sia, ma c'è un grosso problema. E le nostre proteste, le nostre mobilitazioni costante rischiano di continuare a scontrarsi contro la frustrazione di gente che non reagisce. Io mi domando cosa sia successo in uno stato come il Massachusetts, dove la tradizione democratica è, dove Ted Kennedy, il più radicale dei democratici al Parlamento americano, quello proprio veramente uno di sinistra, chiamiamolo così, che ha vinto, stravinto e rivinto, basta. Un anno di azione di lobby di tutti questi gran maiali delle assicurazioni delle farmaceutiche e c'è una massa di persone, perché non è che lui hanno stravinto delle Repubbliche, hanno stravinto. Pensate in un'altra cosa, perché poi quando tu hai un avversario, quello si fa furbo, Barack Obama ha vinto con Internet, bene, il candidato reazionale del Massachusetts ha avuto tre volte più contatti su Facebook e su Twitter della sua avversaria democratica. Allora c'è un grosso problema, noi dobbiamo cercare, è un lavoro molto importante, dobbiamo avere, lo ripeto, una nostra Davos, dove quando tu parti della privatizzazione dell'acqua hai una comunicazione mondiale, perché se non riusciamo a trovare veicoli di mobilitazione grandi, questi andranno avanti per i fatti loro, ci lasceranno gridare, sai che cosa gliene frega. Dobbiamo ritrovare la capacità di incidere sui processi sociali, c'è qualcosa che non funziona, non funziona, dobbiamo trovare un linguaggio che parli ai grandi numeri, perché siccome questa sottospecie di democrazia, questa truffa che si chiama democrazia oggi, come dice Giorgio Boca molto bene la democrazia autoritaria, non ci dà strumenti, perché tu vai a votare per non cambiare niente, non riusciamo neanche a cambiare una classe politica che continua a fallire, figuriamoci cosa possiamo cambiare con le elezioni. Allora questo rito democratico si sta svuotando sempre di più, bisogna evidentemente trovare altre forme di democrazia. Noi abbiamo avuto una qualcosa di estremamente interessante con il movimento del FIOMA, perché abbiamo visto come una grande mobilitazione può venire senza passare per i canali tradizionali. Però non basta, è un punto di partenza, è un principio, bisogna riuscire a capire quali sono i meccanismi primari che mobilitano la gente. Bisogna capire che oggi per esempio la funzione lavoro è diventata paradossalmente meno importante la funzione consumo. Se noi non incidiamo sul meccanismo lavoro-consumo, stiamo combattendo il capitalismo del 1800, come dice giustamente Stiglitz. Oggi non c'è un assetto proprietario del capitalismo, sono i manager che comandano con un delirio da oligarchia, come l'aristocrazia francese. Il discorso che fanno questi manager, fanno, sono loro, teoricamente sarebbero dipendenti degli azionisti. Sapete cosa fanno? Questo strumento lo discutiamo. Ti dico, non è una truppa di mercato. Il mercato che non c'è più, non c'è un libero mercato. È una truffa, è una bufa. C'è il potere di grandi oligarchie. Bisogna trovare il modo di contrapporsi a questa nuova forma di capitalismo, che è un capitalismo terribile perché non ha dietro una realtà, perché c'era sulla virtualità. Avete visto, hanno fatto migliari con i subprime. Poi sono stati diabolici. Quando ci stava andando nella merda, si sono fatti dare i soldi dello Stato. Loro che sono nemici del finanziamento pubblico e dell'intervento pubblico. Appena si sono ritirati, si ricominciano come prima. E malgrado questa devastante crisi, noi non riusciamo a comunicare qualcosa che si muova. Le coscienze a livello profondo e forte. In parte c'è una responsabilità nel centro politico. Non vorrei sparare sulla droce rossa. Però lo dico di quelli di cui faccio parte. Se in questo mondo, con questi problemi qui, il problema è che se hai il nome sul simbolino politico e no, io non ci sto, io voglio il mio simbolino, io voglio la mia parolina. Se queste sono le battaglie del nostro centro politico è quello che ci spariamo nei coglioni. Non è più accettabile.